Il primo tronista gay è Claudio Sona, a 29 anni, è un imprenditore veronese proprietario del bar Urban Café. Finalmente ci siamo! Dopo tante anticipazioni e successive smentite sul primo tronista gay di Uomini e Donne. Oggi 26 agosto, data della prima registrazione, conosciamo finalmente chi siederà sulla sedia rossa. Nel video di presentazione, già uscito sul sito di Vitti TV il tronista si mette a nudo davanti alle telecamere di Uomini e Donne. La mia infanzia è stata bellissima, ho avuto una famiglia molto unità ed è per questo che credo di essere stato molto fortunato. La famiglia secondo me è quella che ti sa aiutare, che ti sa consigliare, che ti sa stare vicino nel momento del bisogno senza mai dover chiedere niente. Il rapporto con i genitori. Ho un bellissimo rapporto con mia madre, lei ha sempre appoggiato le mie scelte ed è orgogliosa di me, e credo che di questo ne faccia vanto con tutte le persone. Con mio papà invece ho un rapporto bellissimo da tanto, con lui rido moltissimo ed è proprio lui tante volte che mi incita a fare delle cose che magari io da solo farei fatica a provare. Per saperne di più clicca sul link in descrizione, troverai anche il video di presentazione. Grazie